Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che continuano gli appuntamenti della rassegna Delizie d'autunno che raccoglie gli eventi di tutta la marca trevigiana dedicati ai prodotti e ai piatti tipici del periodo autunnale. Continua in particolare a Pieve di Soligo la festa dello spiedo gigante. Tra le attività in programma segnaliamo domenica 1 ottobre la gara di tiro alla fune delle contrade Conta e Trevisan. Stand enogastronomici ovviamente saranno aperti già da venerdì 29. Sabato 30 settembre apre a Tarzo la 51esima festa della Castagna. Una storica manifestazione grazie alla quale, promuovendo un prodotto tipico, la Proloco Tarzo APS racconta il proprio paese con le sue tradizioni. A comporre l'evento saranno il mercato dei prodotti tipici, le passeggiate lungo la via dei murales e nei boschi di castagni. Scoprite i programmi degli eventi sul sito www.deliziedautunno.tv Delizia d'autunno è un progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto, di cui alla legge regionale 34 2014. E domenica 1 ottobre ritorna a Treviso la tradizionale manifestazione autunno in Borgo. Borgo Cavour e Via Canova ospiteranno la consueta mostra mercato dell'artigianato e del florovivaismo. Troverete anche prodotti a chilometro zero e specialità regionali. Lungo Viale d'Alviano e Via Caccianiga ci sarà la fiera motori con tutte le novità delle concessionarie trevigiane. Autunno in Borgo dunque, a Borgo Cavour, a Treviso, domenica 1 ottobre, per tutto il giorno tra i profumi e i colori dell'autunno. E dal 1 ottobre al Museo Civico di Montebelluna ritorna la mostra Futuro Agenda 2030, rinnovata nei contenuti e nell'allestimento. Dopo il successo della prima edizione, gli spazi della mostra sono sempre più dinamici. Luoghi in cui sperimentare, dialogare e confrontarsi sui temi dell'Agenda 2030, per uno sviluppo sostenibile. Arricchita da una straordinaria collezione di animali africani, la mostra è visitabile, come detto, dal 1 ottobre al 30 giugno 2024 presso il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, nei pomeriggi dei giorni di apertura. E l'ipodromo di Treviso, in collaborazione con Villa Margherita Inclusiva, organizza Sport Senza Barriere, per promuovere la cultura dell'inclusione attraverso lo sport. Il 30 settembre e il 1 ottobre, negli splendidi spazi dell'ipodromo Sant'Artemio, due giornate ad ingresso libero dedicate alle diverse discipline sportive, con dimostrazioni e prove tecniche per adulti e bambini, corse al Trotto e il Gran Premio Città di Treviso Memorial Franco Fraccari. L'evento è patrocinato dal CONI, Comitato Paralimpico Italiano, ULS 2 marca trevigiana e dai comuni del territorio. È la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Paolo Coelo. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Recoaro. Il Sentiero dei Grandi Alberi è un itinerario alla scoperta di patriarchi vegetali, veri e propri monumenti viventi, che dall'alto della loro età e imponenza costituiscono un patrimonio storico e culturale, oltre che naturalistico e naturalmente ambientale. Una bella escursione autunnale conduce al maestoso linte delle Montagnole, quindi al panoramico altopiano delle Angebe, per finire al faggio di Malga Morando, adiacente all'omonima Malga. Il sentiero si snoda in splendite zone panoramiche alla base delle pareti rocciose della catena delle Tre Croci. Dal Notes di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.